Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frenky e oggi sono qua per questo nuovo video e sempre in compagnia di... Cioè vabbè... Machio capatumato Siamo qua per una nuova puntata di Freckplay, l'unico format incredibile e micidiare che vi porta a qualsiasi video gioco all'interno delle vostre case multimediali Ma allora che cosa state aspettando bambini curiosi? Eh... Male! Male! Su che gioco siamo? Sims 2 Allora, primo quesito fallito Adesso... Qui... C'è... C'è una scritta C'è un... Un carattere... Un carattere ipotetico Che cosa ti dice? Apri Il corso di inventare del negozio di pibili Allora qua ci sono i vari pacchetti, no? Come già molti dovrebbero sapere Ma quello si chiede Nooo Cioè tu lo sai che c'è un range di pubblico Cosa hai fatto? Che sta roba Ma perchè non ti fai il cattuo? Mi mostri la lingua Puttacchi Io non vi dico le cose state Mi stai disintegrando camera Comunque Apriamo questo pacchetto e vediamo che cosa c'è Ma chi è questo? Allora Ma che... Cos'è? Così il tuo personaggio avrà un look irresistibile Poi abbiamo il Fionestein Dragato Dragato E Fungestein Vedi Banditi Mi fai schifo Quindi tu farai da commenter Supporter Ok Cioè in realtà la partita sarebbe già per finire Però Ovvero Ovviamente sì Però commenti a caldo su questo gioco Tu ci fai una le... Ecco Tacco rubato Tacco rubato No Tacco rubato Sì nel laser Due palle Due testicoli Attenzione arriva il lupo Arriva ecco C'è un mindfuck qua Mindfuck il lupo controllo Eh che morto Mindfuck il lupo controllo Eccolo Spencer Mindfuck continuo in transito Naturalmente questo gioco merita se non ce l'avete Allora riporta il tag Qui Guarda qualcosa Guarda qualcuni Tià Tià Tutti e tre sono rimaste No ma è mindfuck il suullo Il gioco Non ci particularly Mindfuck il lupo questo Tià Ah pomodoro che palla Facciamo una partita. Fra un minuto E... dobbiamo aprile il pacchetto da 5.000 5.000 Sì Seltà Seltà Come parli l'italiano? Stella salta alla... Saluta Ciao E angurie Ciao Quindi abbiamo un bel po' di roba Se lo sapete lui soffre di... Cos'è? No vabbè ma dove... Se ti casca C'è una puzza del deodorante ma te dai li ficcalo dentro Dai li ficcalo dentro No La mappa di adesso è Jewel Junction Comunque sia nei commenti e soprattutto lasciate mi piace in caso vorreste vedere altri video su questo Giò Senti vedri Cappelli Eccolo D'accentaio No vabbè Io non ce la faccio E poi il problema è che voi lo vedete Io no Se io mi gira e vedo lui ho con una rete C'è il secondo deodorante con le forbi Comunque Guarda stiamo con lui eh Ok Eeeh Vai Vai Adesso il nostro obiettivo non è più difenderli ma Prenderli Ok 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 Poi non specificiamo cosa Vabbè Stai già preparando altri piani diabolici Io Ragazzi Non Cioè il mio canale un tempo era di qualità Mi sconvolto il mondo E vabbè Posso Io non ho più parole Comunque Tacco rubato Vai Tacco rubato e dobbiamo prenderlo Vai Attenzione Guarda le armi potenti Eccolo Il livello Piglialo 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 Eccolo Vai 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 Il problema è che Stonano di me Oh Siamo saliti di un livello Ecco Il tacco è caduto Vai Grandissimo Lui l'ha raccolto Porca miseria Dal fagiolotto con sobrero Abbiamo le sfide Palle appicciche esplosive Cioè lancia 5 palle appicciche esplosive Cosa sta facendo Poi cure i tuoi compagni E trasportati istantaneamente Degna Abbiamo filmato Filmagine Un filmagine Cosa hai fatto il film Ah beh Vai Facciamo Va bene Lui Fa le cose Spara Spara Sì sì Ancora due Ok guarda in cielo Guarda in cielo Sì ma non Non sparare Vai Che devo fa Ma chi è No vabbè Uno che ha Milano per sé T'arriva Il coglione Il problema è questo Per capire Ci sono piante e piante E pianta Spara Solo Quando Te lo dico io Vai a prendere il taco Lì dove c'è l'icona Ah Scegli Questo Questo Vai Ok Alla occhio che c'è il 30 Chi è sto coglione No Andiamo a dire Non so cosa è successo Ah con due ti teletrasporto Capito Ok C'è 40 di vita Vedi che devi fare Gira gira Sparali Sparali Alla pianta Alla pianta Sparali 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 E vabbè Io mi rifiuto Olè E i gameplay Acquistano Più soldi Più poteri Possiamo anche Li portano No 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 Va bene Li portano No C'è Quindi noi siamo Di zombie Ma sei pespicace Eh Ma mi piacciono le pesche Lo vuoi? Nooo Mi è pazzanazzo Non vedevo Eh vabbè Ah è bene Va pure sotto Lui si che sa Quello che deve fare No il tag è caduto Il tag è caduto St'ha rubato Vai Dai che ce la facciamo Stavolta me lo sento C'è un mindfuck Vai Big show Vai Cos'è sto mindfuck? Non lo so ma io sparo Guarda sto Non so Ma che cos'è? Non sto capendo niente Ma lo faccio Eh si è arrivato quello da cielo Sto stato rianimato Non c'era niente Vado Ah Cos'è sta sbobba Che è? Mica so stu Eh va bene Ma che è sta cosa? Ma che Ma me ne erano tutti storpiati Qui Uno peggio Lui è il sommo mindfuck Ma quello è il sommissimo mindfuck Comunque sto gioco è molto mindfuck Ma te no stai notando Ecco il treno Vabbè Questo è il mio gioco preferito Cazzo Vai vai Magari Magari Mi rifaggiamo Mi rifaggiamo No va bene Non ci voglio credere Dimmi che l'ha portato Io no L'ha portato È proprio un grande Sono mindfuck Madonna che mindfuck È entrato È entrato E chi si è visto Si è visto Vediamo Proprio tutti e tre Ci li siamo presi E vittoria Eccoli Ma che cos'è quest'altro Se non ho visto Che stava a trasferire Nelle metro Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate tanti mi piace Se volete vedere Altri video su questo gioco Che è proprio Un mindfuck Il loop Ultimo in transi È un mindfuck Nello spazio Nuda se questo video vi fosse piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre E chi si è visto Si è visto Ciao Ciao Dai Ciao 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 Grazie a tutti.